C'è stata assolutamente interessante, costruttiva, noi comunque ci siamo divertiti, abbiamo lavorato, abbiamo analizzato mappe, collaborato, ovviamente è stata ovviamente una bella esperienza, assolutamente. Il pane di vino è potere, quindi l'economia nel Castigliano fra 700 e 800. Sì, assolutamente, perché comunque anche questo progetto ci ha avvicinato a questa iniziativa, possiamo dire. Abbiamo collaborato in lavorare insieme, collaborazione. Abbiamo anche imparato ulteriormente a lavorare insieme, quindi a coordinarci, capi gruppi, quindi aiutavano, ovviamente è stato molto istruttivo. Perché comunque c'è un progetto che aiuta anche a farci lavorare e a insegnarci anche delle cose che magari non conoscevamo, di un dato, nel nostro caso, dell'economia del nostro paese o comunque di un'informazione che non conoscevamo. Se è possibile, dipende, nel senso comunque sì.